Anche il prossimo campionato di prima categoria è alle porte. Nel prossimo weekend tre gironi da vivere tutti di un fiato con squadre allestite per coronare il sogno chiamato promozione. Le Erpine affronteranno tutti i team provenienti da ogni parte della campagna, dal Napoletano al Salernitano al Casertano fino ad arrivare a Beneventano e, per dire da tutta, anche lo Stato di Puglia, una squadra del Foggiano. Nel girone D subito big match per la Michele Amodia Monteforte di Stabile che ospita ad Altavilla il Mugliano del Cardinale di Mister Napolitano. Altra bella gara a Prato-la-Serra tra la nuova Belinum di Marcella De Stefano e la S di Monteforte del Mister Sfera. E poi tanta curiosità sul parco a culone di Peppe Pennetti che renderà visita al caro tenuto. L'unica componente irpina nel girone G al Città di Montoro del trainer Federico. Prima giornata in trasferta in casa della Giffonese. Tantissimo il raccomandamento di Conil Passo e Clano che è la scuola da battere con i vari Cataruzzo, La Brogna, Gubietoso e Flammia. Al primo turno trasferta sull'ostico campo dello Sporting Venticano per gli arancioni di Mister D'Alessandro. Poi super derby dal Terpini a Montella tra la Felice Scandone e Rocca San Felice. Mentre le prime volte di Caposero e San Sossio sono chi in trasferta a Bisaccia, chi tra le mura amiche con l'atletico Castelfranci di Giannasca. West Ariano a Frigento mentre la Vissara in Accadia ospita la Cedonia. Sta per partire un campionato bello, lungo e faticoso su tre gironi. Nella stagione 23-24 doppia promozione irpina con il Montoro e la San Martino Vale Caudina. Quest'anno si sogna il tanto agognato Tris.